Ciao, benvenuti al mio negozio, sono Paolo Brada, ricordatevi di like, share e commentare questo video e di iscrivervi al mio canale. Ciao ragazzi, prima di uscire la ruota. Disassembli il calipero per sottolineare le ruote. Extratiamo tutti i padri senza ammigare il disc. Immaginiamo la ruota e la ruota. Compariamo il nuovo con i padri vecchi. Paginiamo il calipero e puliamo la pistola in arrivo con la corda. Paginiamo il calipero. Inseriamo il nuovo padri e rilassiamo il calipero. Inel pilotiamo il calipero. Paginiamo e anche impazziamo il disc. Inerm Restiamo il calipero. Ripassiamo la ruota e ripeto le operazioni sulla parte invece. ovviamente ho anche peintato i caliperi fronti ok ragazzi è tutto per questo video grazie per la visione e iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video